Oltre ad essere il suo dovere e anche il suo diritto a tutela e a interesse del Ministero che guida far capire come si stia sviluppando l'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose per cui non riesco a capire se non i molteplici impegni che certamente graveranno sul Ministro perché mai ancora non si è arrivato ma sono fiducioso che verrà al più presto. Lei dice la sua convocazione in Commissione Antimafia? Certo perché è questo il punto per cui ancora l'interlocuzione non si è conclusa positivamente fra la Commissione e appunto il Viminale ma io sono fiducioso e sono ostinatamente fiducioso perché le persone hanno razionalità e quando vogliono capire. Sui soldi chiesti dalla Lega? Chiesti dalla Lega, chiesti da Sagoini.